Grazie Presidente. Se lasciassimo sfogo alla fantasia ancora chissà cosa sentiremmo in quest'Aula come ipotesi. No, guardate, si tratta di situazioni veramente molto più semplici. Il Municipio ha fatto la programmazione su quelle strade individuate, nel secondo manca nella modifica della descrizione una delle vie che erano state indicate perché la previsione era stata fatta su un livello di progettazione, su uno studio di fattibilità che poi una volta approfondito con la progettazione di dettaglio ha dimostrato che i fondi a disposizione non erano sufficienti per fare tutte le strade per cui per coerenza con lo stanziamento e con quanto si poteva realizzare quindi senza modificare i fondi perché sarebbero serviti dei fondi aggiuntivi il Municipio ha individuato nell'ambito delle strade che erano state previste ovviamente quelle da dover manutenere con maggiore urgenza togliendo dalla pianificazione le due che non potevano essere fatte con questo stanziamento. Per cui via Numitore. Numitore. E quindi la motivazione è banalmente diciamo legata al fatto che con la progettazione definitiva si è dimostrato che i fondi non sarebbero stati sufficienti. E ovviamente il voto del Movimento 5 Stelle è favorevole. Grazie.